jewig che c'è mi dica è un gorgere cocomero ora però cocomero pere limoni comefrogue poi cocomero per limoni ti calmi cocomero, per limoni un frutto che comincia per ta cocomero per i metodi aspetta qui aspetta signora, signora mi scusi le viene in mente un frutto che comincia per ta Ma in che senso ta? Ta, 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 ta. Tamarindo! Tamarindo, grazie! Ma sai che cos'è il tamarindo? Il tamarindo è un frutto esotico, è un unico nel suo genere, e deriva dalla famiglia dei tamarindus. Beh, come fa, lo dimenticato. Ma lei lo sa che il tamarindo è originario dell'Africa orientale, dell'India. Ma ne parlavamo ieri proprio di queste cose. Ma sì, ma veramente, ma poi lo sa che è stato importato nei luoghi tropicali dell'Asia e persino in America Latina. Accidenti! Poi guardi che il tamarindo è buonissimo. Io lo mangio tutti i giorni, questo tamarindo, e fa anche bene. Ma quello non parla mai, lei però parla troppo. Ma in che senso, scusi? No, no, perché in realtà va bene così. Ecco. Buongiorno, scommetto che avevi il numero 38. Sì, appunto. Cosa le possiamo servire di buono? Allora, vorrei sapere se questo turno è fresco. Se è fresco? Mezz'ora fa è entrata a piedi. Ed è talmente fresco che vengono al cappotto addosso. Sì, va bene. Scusi, perché? L'alice? L'alice l'abbiamo appena preso nel Paese delle Meraviglie. Il bianconio. Scusate, io non ho tempo da perdere, va bene? Una ringa. Una ringa, prego. Signor giudice e signori della corte. Ma ci ha fatto la ringa. Senta. Mi scusi, non ho trovato nessun frutto con la... Dai, mi dispiace. Il cocomro, i limoni, per le pere va bene. Eh, lo so. Un coltello per tagliare e liberarmi i pantaloni. Perché lei è incestrato. Va bene, me lo vorrei dire prima, no? E su. Ma, 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 ma... Ma, 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 ma... Ma, 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 ma... Ah, mi? Ma, no, ma, no. Eh, c'è. Aspetta qua. Aspetta qua. No, 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 non mi muovo, ma te la... Mi dite il pesce spada e non ne parliamo più, su! Scusi tanto, ma pesce spada non possiamo. Perché? Alle 11 c'è un duello. Secondo me è una scapula! Silenzio! Silenzio! Io spero soltanto che fra onorata lei le prenda un polpo! O che sbatta il nasello su uno stigola! Va bene, io a questo punto sgombro e non torno più! Ma stia attento al pesce padulo! Che pesce è? Faccio uno sforzo di fantasia! 39! Signora, pensi, le serve un coltello, un coltello! Si fa presto a dire coltello! Ma lei lo sa che cosa serve il coltello? Il coltello è un utensile per la cucina, per tagliare! Ma poi viene usato in tantissime cose! Io per esempio lo uso per tagliare la banana, per fare la macedonia! E poi lo uso anche per la verdura! Perché per la verdura mi serve tantissimo! Perché dopo faccio la macedonia e faccio anche le verdure grigliate! Guardi, vengono benissimo il coltello! Lo sai da che cosa deriva la parola coltello? Da colteilus! È il diventino di colte!